Anche il nostro paese è in linea con le indicazioni dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMA e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie e si appresta a dare il via libera alla quarta dose per gli over 80. Prima però si aspetta che si esprima anche l'AIFA, ma oramai la strada sembra tracciata per gli ultraottantenni, questo perché secondo gli esperti chi è in questa fascia di età è più fragile dal punto di vista immunologico e quindi con un nuovo booster sarebbe più protetto. Direttore, si va verso la quarta dose per gli over 80, la Regione Abruzzo già si sta organizzando per essere pronta? La Regione Abruzzo è già pronta perché comunque gli hub continuano ad exercitare la loro attività, fino alla fine di maggio ci saranno i medici della struttura commissariale e poi dal primo giugno vedremo come organizzarci, ma ci stiamo già lavorando. Per cui noi siamo pronti alla quarta dose degli over 80, così come eravamo pronti per la quarta dose dei fragili, quindi nessun problema a livello organizzativo. Secondo lei verrà fatta la quarta dose prima dell'estate, visto che devono passare quattro mesi dalla terza somministrazione? È chiaro che questo dipende da quando è stata fatta la terza somministrazione, è chiaro che andrà a cascata, però ripeto, la nostra Regione è pronta, ha dimostrato in questi mesi una grande capacità di adattamento, grazie, ripeto, sempre alla guida dell'assessore Vedi che ci ha seguito e ci ha guidato in maniera imbeccabile, per questo che la Regione, anche nel panorama nazionale, la Regione Abruzzo è una fra le migliori. Noi siamo pronti, devo dire che non c'è stata una grande adesione tra i fragili alla quarta dose, quindi dovremmo anche capire quale sarà poi l'adesione volontaria ovviamente per gli over 80 alla quarta dose, però comunque noi i vaccini ci sono, gli ab sono pronti, anche i Siesp in questo momento sono pronti a ricevere anche, diciamo, cittadini per la vaccinazione, perché insomma mi sembra che non c'è nessun problema. Visto la fine dello stato di emergenza, secondo lei a settembre che situazione ci sarà dal punto di vista delle vaccinazioni? Ma questo lo dovremmo verificare nel tempo, insomma oggi è difficile dire qualcosa, anche perché arrivano nuove varianti e comunque il virus è presente, insomma, seppure in ospedalizzazioni non c'è una pressione così alta, anche se si comincia a rivedere qualche polmonite e soprattutto le rianimazioni, diciamo, sono quasi vuote, insomma, tranne qualche caso, per cui insomma mi sembra che il virus circola, però la pressione non c'è, vedremo cosa succede a settembre.